Di respirare la stessa aria, d'un secondino non mi va Bentornati all'ennesima puntata delle Fritte, sempre da Pietro e Marco Ciao Marco Ciao ciao Allora, oggi abbiamo deciso di fare con Marco una puntata particolare, una puntata meno leggera del solito Una puntata che abbiamo deciso di chiamare i giorni dell'ira Perché cercheremo di sostenere una tesi agganciandoci a dei fatti di cronaca più o meno recenti Sulla questione odio, sulla questione carcere, sulla violenza carceraria, sulla violenza della polizia Insomma cercheremo di portare un ragionamento che unisce vari pezzi che normalmente o non finiscono Come al solito sulla grande stampa o se ci finiscono in maniera orrenda Dando sfogo al più bieco sentimento manettaro che vive nei cuori della massa delle persone Marco cominciamo però come al solito da questi due fatti Dicci due coordinate su quello che è successo Uno, il primo è stato sulle prime pagine di tutti i giornali Ed è l'assassinio della coppia a Lecce tra cui l'arbitro De Santis e la sua compagna Soprattutto ho questa impressionante giustificazione tra due miliardi di virgolette Che ha dato l'assassinio della coppia Cioè non potevo sopportare la loro felicità E quindi questo discorso che poi cercheremo di riprendere Su questo diffuso sentimento di rancore, di rabbia, di odio che pervade la società L'altro invece è un episodio che secondo noi è fortemente collegato a questo Anche se non è apparso praticamente su quasi nessun giornale Con l'eccezione di domani il nuovo giornale di Benedetti E il riformista Ed è un drammatico, violentissimo pestaggio Fatto dalle forze dell'ordine Fatto dalle guardie carcerarie Nel carcere di Santa Maria Capo Avetere È avvenuto il 6 aprile Quindi è una cosa di diversi mesi fa Questa cosa è uscita fuori Poi c'è un'inchiesta in corso C'è un'indagine in corso Ci sono immagini del sistema di sorveglianza Che confermano l'accaduto E che cosa è successo? È successo che Forse qualcuno si ricorderà A marzo Quando è scoppiato il Covid Ci sono state delle Anche delle piccole rivolte Nelle carceri italiane Che sono state trattate dai media In maniera orripilante Ci si mettono pure i carcerati Che cosa vogliono? E che poi tutto quanto è diventato solamente con Ah ecco così stanno uscendo i mafiosi in libertà Che cosa chiedevano i carcerati? Chiedevano C'era Covid E come sappiamo Il sovraffollamento delle carceri E' uno dei drammi Da anni e anni Nelle carceri italiane Quindi chiedevano mascherine Chiedevano Chiedevano di salvarsi Il minimo Allora Questa rivolta Subisce una Una violenta ritorsione Il 6 aprile 300 poliziotti Provenienti da altri istituti di pena Passano una violenta Bastonatura Vera e propria bastonatura Ai carcerati responsabili della rivolta Gli interni Non partecipano Ma assistono Lì tranquilli Senza dire niente Non è certo la prima volta Che queste spedizioni punitive Vengono fatte Però è clamoroso E' clamoroso Ed è clamoroso il silenzio Dei media Come dicevamo A parte queste Lodevolissime In questo caso Eccezioni E quindi Ecco Qui ci fermiamo intanto Questi sono i fatti Un terzo fatto Che in qualche maniera Si collega E Che pochi giorni fa Il 25 settembre E' stato l'anniversario Erano 15 anni Dalla morte Direi dall'assassinio Di Federico Aldrovandi Che è un po' Il George Floyd Italiano Nel senso che Aldrovandi Muore Perché Per asfissiata posizione Come dice Come è stato affermato All'interno del processo Quindi esattamente come George Floyd Perché Ammanettato Con un poliziotto Che gli sta sulla schiena Con il ginocchio sulla schiena Così muore Aldrovandi Dopo che era stato picchiato Per reazione Perché lui aveva reagito Quali questioni sono sempre Comunque alla fine Il ragazzo Muore Ammanettato E asfissiato Esattamente Come George Floyd Pochi mesi fa In America Esatto Allora Questi temi Questi tre fatti Diciamo A cui se ne potrebbero aggiungere Diciamo Anche qualche altro Eccetera Sottolinea Secondo noi Proprio questa Due cose Intanto proprio Questo sentimento Di odio Questo sentimento Questa Questa percezione Che si ha Quando c'è qualcosa di bello Delle persone felici Che le persone Non sono felici Per loro Come dovrebbe essere normale Ma c'è questa sorta Di rancore Che ha portato Un po' all'omicidio Che hai citato tu All'inizio Marco Di questa giovane coppia Che lascia francamente Francamente Basiti e preoccupati Perché Oltre al prendersela Con quello Che sta peggio di noi Che potrebbe essere Il risultato Del Un po' Del pestaggio Del fatto che le persone Non si interessano Normalmente Di quello che succede Nelle carceri Anzi dice Buttate via la chiave Questi non ci interessano Ma il livello Si è alzato Drammaticamente A un punto dove Questo rancore Ti convince Una persona Tutto sommato Normale A uccidere Una coppia A coltellate Perché erano Troppo felici Questa cosa È veramente Preoccupante C'è una deriva Che l'odio Instillato Nella società italiana Comincia a venire A galla In maniera Violentissima Sì Completamente E la questione Carceraria Si lega Nella nostra Testa Si lega A quest'altro episodio Perché Come dire Quest'aria Diffusa Di rancore Che in alcuni casi È anche giustificata Dalla Difficoltà Della condizione Economica Della difficoltà Aumentata Dal problema Della pandemia Del covid E tutto quanto Però Nel momento In cui A queste difficoltà Non c'è Un orizzonte Non c'è più Un orizzonte politico C'è per fortuna Ancora Per i credenti Un orizzonte Di possibile Cambiamento In senso Positivo Ma nel resto Della società Si diffonde Questa guerra Di tutti contro tutti Che poi diventa Come dicevamo Per la questione Carceraria L'idea Di buttate via Le chiavi E il disinteresse Totale Rispetto a quello Che succede Nelle carceri Nella gestione Dell'ordine pubblico Tutto diventa Vabbè Non mi interessa Sono questioni O diventa Il drammatico Se Come nel caso Di altro bandi No del ragazzo Altro bandi Se non Si era drogato E non rispondeva Alla polizia Non gli succedeva Come se Come se ci fosse La pena di morte Come pena A questi comportamenti E questo Dilaga Nella nostra società Anche Tantissime persone Democratiche Conseguenti Di aperte Aperte Tutto quanto Tutto viene accettato Il 41 bis Va benissimo Va benissimo Dapertutto Si è persa L'idea Che il carcere Sia Un momento Una pena Ma anche Un tentativo Di recupero Ma anche Uno specchio Dovrebbe essere Uno specchio Di una società Civile Esatto Qui Niente Tutto passa Quando si parla Di orribili delitti L'unica Posizione Le persone Che si interpellano Sono i familiari Chiaramente Esprimono Rancore Di disagio Lo stato Di diritto Diventa Quando si passa Dalla Vendetta Familiare Tribale A uno stato Di diritto Per cui Una capacità Di punire Anche Che Travalica Inevitabilmente Il dolore Il giustificato Il legittimo Dolore personale E ci sembra Quindi Queste cose Pur Differenti Fra loro Ci sembrano Riportare Un Clima Brutto Un sentimento Dominante In questa società Che Appunto È Rancore Odio Si dice Si parla sempre No L'odio tramite I media Le fake news Ma qui L'odio Non è solo tramite I media I social media Sembra veramente Purtroppo diffuso Nella nostra società E fa il paio Marco Spesso Con quel sentimento Del voler Come dire Giustificare Un atto Terrificante Perché la vittima Aveva fatto Qualche altra cosa È la questione Delle ragazze Che vengono Violentate Perché era vestita Con la minigonna E quindi Te lo devi aspettare Cioè Questa sorta Di Dimenticarsi Anche dei Come dire Di diritti Fondamentali Della persona Cioè una ragazza Ha tutto il diritto Di andare in giro Vestita anche carina Senza dover Temere Che un buzzurro Un energumeno Gli faccia le avanze E la violenti Cioè sono delle cose Che nella società Del ventunesimo secolo Dovremmo dare Per scontate E che invece Ahimè Scopriamo Giorno dopo giorno Che non lo sono Non lo sono più Non lo sono più E Allora Direi che La tesi È abbastanza Come dire Forte L'aggiornamento È abbastanza Forte Rispetto All'opinione pubblica All'opinione comune E quindi Per chi sentirà Questo video Siamo curiosissimi Di ascoltare Sia i vostri insulti Che sicuramente Arriveranno In un modo O nell'altro Ma anche Dei ragionamenti Proviamo a ragionare Su questi temi Senza insultarci E Per capire Anche le diverse posizioni Rispetto a quello Che vi stiamo dicendo oggi Sarebbe interessante Come dire Dopo un po' Raccogliere I feedback Che ci arriveranno E magari fare Anche una seconda puntata Dove Dove li ragioniamo Alla luce Della nostra Della nostra tesi Detto questo Marco Diciamo che Possiamo chiudere qua Sì Oggi chiudiamo qui Niente Ritorneremo Continueremo In perterri La prossima volta Cercheremo Qualche argomento Un pochettino Più leggero Esatto Esatto Quindi condividete Questo video E ci vediamo La prossima settimana Ciao 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 ciao